Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, ovviamente siamo con Dade, stavolta negli Skywars No, non è vero, chi ti si incula? Chi mi si incula? Vabbè, siamo negli Skywars e gente random, proprio nel server di Kenoya che troverete in descrizione Buttiamoci, Dade mi sono buttato No ma che buttiamoci? Dai vai scendi scendi, mi sono buttato Ok ci sei, ci sei Bella Ma lo shoppino non c'è? Sì, fai slash shop Slash shop, aspetta Ok, meraviglio, shop Allora, come faccio a sapere quanti soldi ho, Dade? Eh, c'è scritto a fianco metano Ok, io ho preso un underpearl Bravo, l'ho preso anch'io Ok, io non ho capito dove stanno scritti i soldi, però Oddio, da qua non c'è Però dici prima che inizia la partita Sì, Dade, però io sono un po' tardo e... I tardi si sa, non capiscono le cose al volo, via Intanto tu sei lontano o no da me? Non lo so, io non so su quale isola sei Eh sì, metano sono molto lontano Oddio, allora troviamo un punto d'incontro Destra o sinistra, decidi Metano quel tizio vuole venire da te Io l'ho buttato giù No, ah ok, bravo, bravo Aspetta Ah sì, ok, l'ho visto, l'ho visto, era lì Io mi devo sistemare l'inventario Ci metto sempre mezz'ora Quindi, Dade, insomma Aspetta Io non faccio team con nessuno Metano ne ho uccisi due Grande, dè, grande Allora, aspetta Io sto ancora sistemando l'inventario Non so cosa sto facendo, a dire il vero Sì, vabbè, lasciamene uno Incredibile Quello sei tu Ok, metano, andiamo da quello lì Ok, dov'è? Oh, perfetto Perfettissimo Questi sono i tutorial di Matteo Fire Se non li conosciete andate sul mio canale Guarda come ci muore male Guarda, guarda Col potere dello shop Questo si chiama col potere dello shop Oddio, questo si chiama potere dello shop No, no Oddio, Dade, di merda Dade, ti prego, non lo fare, Dade Oh mio Dio Sei un rotto in culo Dade, sei un rotto in culo La pratica del camaleotto Rotto in culo Incredibile, amici Incredibile Dade, potresti prenderlo un po' nel culo Secondo me, però Ok, allora Dove stanno scritti i soldi che ho? A fianco, metano Perché io c'ho la ney, cavolo Come si chiude la ney con la O? Perfetto 25 money, io Cazzo, non ho shoppato Sono un po' tardo, Dade Sono un po' Non so, metano Ah, io posso farlo anche gioco Sì Allora mi piace Intanto prendo robe Oddio, c'ho 10.000 spade io Ma che cazzo ci faccio? Me ne basta una a me, eh Allora, il potere dello shop Vediamo shop Che poi costa di meno in gioco Sì, ma non lo dirà nessuno Ho buttato uno giù Sì, ma non lo dirà nessuno, Dade Bello, ok Allora, perfetto Io intanto qua mi faccio una mini barriera Perché come al solito Devo sistemarmi Inventare tu Vediamo il tizio di là ha shoppato Cosa? Intanto ne ho buttato uno giù Sì, Dade Ma cosa ha shoppato? Perché quello È l'armatura in diamante Vabbè, allora Perfetto Mi parte una sega Allora, sei il corpetto Allora, tu sei lì C'è un tipo laggiù Oh Magari Aspetta, magari lo butto giù così Madonna, la mira di metano Lezzo Ok Lo prendo a sorpresa Attenzione Guarda, guarda Metano, a me servono altre frecce Dade, guarda Guarda, guarda, guarda L'armatura shoppina Ok, metano Ma il problema è questo Shop power, stronzo Il problema è questo Guarda, guarda Aspetta Madonna Mi sento realizzato Perché ha appena buttato via Un casino di soldi lui Metano, in realtà non è morto Chiudigli l'acqua Ma l'ho chiusa L'ho chiusa Dade, sta scendendo l'acqua What the fuck Ma che cazzo pezzo di merda Lezzo Ok Mi sta sul cazzo la gente Che fa così Metano, sta sotto di me, è vero? È sotto di me Attacco ninja Dai, dai, dai Grande, grande Pira il culo Ciao Allora, tecnica del camaleonte Che non funzionerà per con le uova Ok, dade Non stavo scherzando Io invece ho sempre le frecce No Dade No Dade Non possiamo Faccio dovere frecce Ah, non ne ha più frecce? No Oh 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 Dade Dai, allora Facciamo una cosa tranquilla, eh No, dade Facciamo Dai, dade Io sono tuo amico, dade Non facciamo gli stronzi Bravo Mi chiamò nel culo Stronzo, stronzo, stronzo L'hai preso un po' nel culo, dade L'hai preso un po' nel... Schifoso Io Non c'ho più frecce Da dove le posso prendere? Eh, ho visto il tipo Le ho preso per terra Mi chiamò nel culo Vabbè 3, 2, 1, ciao Vado Ok Mappa Quanto strana questa qua, eh A me sta sul cazzo Perché c'è la sandstone Aspetta, si chiamava sandstone No, come si chiamava? A massimo soul sand Soul sand, ecco Vabbè, sempre sabbiati Più o meno Allora, ovviamente No, stavolta non ho soldi per l'arco Quindi niente, tecnica del camaleonte, dade In realtà sì Ah, vabbè In effetti la puoi fare in qualunque caso Però non puoi attaccare mia distanza No Allora, intanto Ma qui c'è una cazzo Cazzo fa A me hanno dato un po' di armatura decente Quindi mi sento un sfatto Anche a me Niente di particolare Mi hanno dato l'armatura in diamante Porca puttana Vabbè Non è c'è in diamante In chain Eh vabbè Pure a me Pure a me Per questo non sono messo male Però non ce l'ho completa Però con spari di diamante Incredibile Eh no Io ce n'ho una di pietra Lì di merda Proprio È una Redstone torci Ma perché questi qui Si fanno subito le torrette Ma quanto mi stanno sul culo quelli Maddo Oh Hanno fatto già le torrette Sì Allora aspetta Qua ne butto giù uno easy Madonna Io ne vado a prendere uno qui Ma io dico Ma è possibile avere questa mira Veramente Ma è possibile Date attento Attento No 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 Attento Proprio 9.avi No Metano un shoppino vicino Guarda qui che cazzo c'ha addosso Già Date Che brutta la gente che shoppa Già Sì ma io non shoppo le armature in diamante Cazzo Beh quello di prima l'ha fatto E c'è anche morto Ma magari l'ha trovata Non so se si può trovare o no No si si può trovare Ma è un caso su un miliardo Oh quelli sono in team Date ma cosa faccio Date Oh mio dio Date ho fatto la stracciata Ma perché Perché sono potentissimo Date Oh mio dio Oh mio dio Se li fa tutti Se li fa tutti Non è un cazzolino E me ci mori male Da Ecco appunto Oddio Oddio ma ce la stavo per fare Se ce la stavo per fare Oddio se ce la stavo per fare Date Siamo accanto Date Per la prima volta Siamo accanto Ma siamo sempre sulla mappa di merda Che mi sta un po' sul cazzo E non ho Vabbè Ciao a tutti E questo è un tutorial Di Dade Su come morire Entro 0-2 secondi Dade Io non so mai da come scendere Perché cioè Fanno questi ombrelli Del cazzo proprio Non sono ombrelli Ma vabbè Intanto uno è già stato ucciso Incredibilmente Non ci sa Come non sono ombrelli Sono tutti Cosa sono scusate Come li chiami Coperchi Eh io li chiamo Isole con ombrelli Tipo Isole con ombrelli No No Una sega Oddio dare C'ho un casino di armatura Io Se vuoi Tipo Vieni da me Ti posso un po' di roba Oh Cosa Cazzo No metano Non ci credo nemmeno Se mi pagano Cosa è successo Dovevo fare un salto da uno Io ho beccato il buco Cioè Sul serio Dade Sì Cioè sei morto sul serio Allora aspetta Faccio una cosa easy Proprio veloce Alla Kamikaze proprio In teoria non dovrei farla Perché è un po' rischioso Però Dade Fai il tipo per me Perlomeno Non lo so Bo Fai qualcosa Sì Che bello Vai metano No Devi fare metano Metano dai Ce la vuoi fare Così dai Morici male No Allora Io ce la posso fare Proprio lo sento Che ce la posso fare Perché No no Dare Io Mi sa che ce la faccio Sul serio Sì metano Ma io non sto dicendo di no Tranquillo Infatti Sto dicendo che ci morirei male Tra tre No dare Perché accanto c'è uno Che penso sia abbastanza tardio Non tanto perché Lo conosco Ma Immagini un tuo iscritto Tipo E lo stai offendendo di cattiveria No Dai Oddio Oddio È metano È morto Tre Due No Dale No Ok ragazzi Il video finisce qui Non so quanto sia venuto lungo Perché Perché sì Gli skyworks sono divertenti Ma se non si tiene il tempo Boh proprio E ovviamente Trovate tutti in descrizione Ovvero L'IP del Zeper Il Cristo Non so Anche questo ragazzo qui Che non si sa che cavolo sia Che si è affacciato Ed Ciao a tutti Ciao